Loro mi sanno di quello che parlo, perché mi preoccupa di farlo C'è una distanza tra le pietà e poi si vengono Scusami ma ci credo tanto, e cosa fare questo salto? In effettuare la pietà le salita, ora mi sconammo per la vera civici i signori, ogni laurea, ci vogliono, ci vogliono, ci vogliono Per il mondo sconammo, ci vogliono, ci vogliono, ci vogliono, ci vogliono Cosa fa lì, la sconammo, ci vogliono, ci vogliono ma ci vogliono Algo dimozioso dal vivo e ho visto zammato che sei sempre poi ma Uggi un po' di un pezzo nel mondo Non si può di un pezzo nel mondo Mu niño un po' di un pezzo nel mondo Mu attendi un pezzo nel mondo Sottotitoli e revisione a cura di QTSS Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info Sì... Siamo un po' di testa Siamo un po' di testa Siamo un po' di testa Grazie